I tasselli si stanno componendo e piano piano il pistola basket sta costruendo la squadra che disputerà il campionato di Serie A 2023-2024. Dopo le conferme del gruppo italiano, formato da Capitano della Rosa, Saccaggi, Del Chiaro e Wiedel, ecco l'arrivo del primo straniero extracomunitario. Si tratta del centro nigeriano con cittadinanza canadese Derek Okbeide, classe 1997, ragazzone di 206 cm per 113 kg che lo scorso anno ha giocato in forza alla Clubs Rimini nello stesso girone di Pistoia con l'ex bianco-rosso Jets Johnson come compagno di squadra. Dopo 4 anni al college dei Georgia Bulldogs negli Stati Uniti, ha iniziato la sua carriera all'estero prima con la formazione cipriota dell'Arnaca, dove rimane due anni conquistando la vittoria del campionato e la Coppa Nazionale e risultando anche MVP stagionale, e successivamente passando all'Apple Elliott in Israele e al Pauk Salonico in Grecia, dove rimane fino al gennaio 2022 prima di trasferirsi in A2 Turca al Konya Sport con il quale ottiene la promozione nella massima serie. Poi il trasferimento a Rimini, dove il regular season colleziona numeri notevoli con 16 e 1 punti di media in 26 minuti di utilizzo e risultando il miglior rimbalzista del girone a pari merito con il nostro Carl Wiedel con 8 e 9 rimbalzi a partita. Il destino ha voluto che la sua ultima partita giocata per intero sia stata proprio contro la Giorgio Tessigloup, che uscì vincente per 74-77 dal pala Flaminio di Rimini con Obeide che totalizzò 21 punti e 12 rimbalzi. Il 2 aprile infatti si infortuna una spalla contro Latina e termina la sua stagione dopo essersi sottoposta all'operazione che risulta perfettamente riuscita. Sono molto contento della firma di Derek, afferma coach Nicola Brienza, perché pensiamo che sia un giocatore che sta crescendo tantissimo, ha fatto una buonissima stagione a Rimini ed ha ancora molti margini di miglioramento. Giocatore estremamente fisico, di conseguenza potrà essere un riferimento dentro l'area per tutti, essendo stato uno dei migliori rimbalzisti della Serie A2 difensivamente, penso che potrà dire la sua anche al piano superiore. Ringrazio la società per questa opportunità che mi ha concesso, sono le prime parole in bianco rosso di Obeide. Le mie motivazioni sono altissime, non vedo l'ora di scendere in campo per difendere la maglia di Pistoia e vivere una stagione di grande impatto in Serie A.